Quello che sembrava un trapianto riuscito si è trasformato in una corsa contro il tempo. Ma cosa ha scoperto il team medico che ha cambiato tutto per il giovane Marco? Scopriamo insieme gli eventi che hanno portato a questa svolta inaspettata. Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e di lasciare un mi piace. Grazie! E' morto nel corso della notte tra venerdì e sabato a Roma il ragazzino vicentino di 12 anni, per il quale svariate migliaia di persone in Veneto e al di fuori dei confini nazionali si erano attivate per trovare un donatore di midollo. Un trapianto poi avvenuto di recente grazie a un cittadino straniero con parametri compatibili che era equivalente a un raggio di luce e di speranza per salvare la vita a Marco, malato di una grave patologia leucemica. Purtroppo, dopo le prime settimane di convalescenza in cui gili esiti iniziali sembravano dare segnali di confortanti progressi, la salute precaria del giovanissimo paziente si è aggravata irrimediabilmente. L'intervento riuscito era stato completato ai primi di ottobre, dunque a distanza di circa otto mesi dal presentarsi dei primi sintomi di malattia e il ricovero in una prima fase di terapie a Padova fino alla notte di sabato 2 novembre nello scorso fine settimana quando è sopraggiunto il decesso all'ospedale policlinico Gemelli della Capitale. La lotta di Marco inizia con la diagnosi di leucemia, una battaglia che ha unito non solo la famiglia ma un'intera comunità. Migliaia di persone hanno risposto all'appello per la donazione del midollo dimostrando una solidarietà che travalica i confini geografici e culturali. La procedura di trapianto è stata un faro di speranza per Marco e i suoi cari. La compatibilità del donatore straniero ha rappresentato un momento di gioia pura, alimentando la speranza di una possibile guarigione. Nonostante l'iniziale successo del trapianto, Marco ha iniziato a mostrare segni di complicazioni. La situazione si è aggravata rapidamente, nonostante gli sforzi incessanti dei medici. Ti invito a condividere nei commenti la tua esperienza o pensiero su questa delicata tematica. La tua voce è importante per noi e per chi sta vivendo situazioni simili. La tragica svolta arriva quando i medici scoprono che il corpo di Marco sta rigettando il trapianto, una complicazione mortale che porta alla sua prematura scomparsa. Questo caso solleva importanti questioni sulla leucemia, il trapianto di midollo e la ricerca medica. È fondamentale continuare a sensibilizzare e finanziare la ricerca per migliorare le probabilità di successo di queste delicate procedure. La storia di Marco C. lascia con il cuore pesante, ma anche con la determinazione di lottare per un futuro dove storie come la sua possano avere un finale diverso. La medicina ha fatto passi da gigante, ma la strada è ancora lunga. Ti ricordo di iscrivervi al canale Notizie Live Stream per non perderti altre storie come quella di Marco e di lasciare un mi piace se questo video ti ha toccato in qualche modo. Grazie per averci seguito. Alla prossima! Non dimenticate l'importanza della ricerca e della donazione. Ciao e alla prossima storia!